Sono Laura Antichi, vi presento Fieldtrip della Niantic Viaggi e Info Locali. Questa applicazione è disponibile tanto per iOS che per Android. Purtuttavia l'app è ottimizzata per gli smartphone, non per i tablet. Con Fieldtrip andiamo alla scoperta di luoghi e punti di interesse. Quando qualcosa di interessante è vicino al punto dove uno si trova, l'app apre una scheda sul luogo. Fieldtrip offre informazioni sui posti storici, famosi sui ristoranti e centri di shopping ed altro. Ho scaricato l'applicazione sul mio smartphone e ora la apro. Fieldtrip. Vedete che ho a disposizione la visualizzazione di tutto ciò che mi sta attorno. Moda, tendenze, curiosità, stranezze, architettura, mangiare fuori, arte e musei, luoghi ed eventi storici, luoghi salvati, notifiche recenti e notifiche. Ora nella mia posizione l'applicazione mi dà la possibilità di avere delle informazioni sui luoghi vicini. Ad esempio vediamo il parco, il parco Camillo Tarello che è vicino a casa mia e mi dà proprio la descrizione di questo parco. Buonasera Grazie